Buonasera da Montegrotto, sono 11 i comuni sotto i 15.000 abitanti che hanno eletto il nuovo sindaco in queste ore. A Montegrotto Terme è stato riconfermato Riccardo Mortandello con una maggioranza significativa. Abbiamo appena visto le sue lacrime di gioia, ringraziato tutta la sua squadra e tutta la sua famiglia. Per quanto riguarda gli altri comuni eletto ad Arzer Grande, riconferma anche in questa occasione il sindaco Filippo Lanzarini, restano molto incerte e aperte le altre sfide. Su Carmignano di Brenta che andava al voto dopo la morte prematura del sindaco Alessandro Bolis, pare sia avanti in questo momento il vice sindaco reggente fino ad ora, parliamo del giovane Eric Pasqualone, potrebbe profirarsi un ribaltone invece per quanto riguarda il comune di Neventa Padovana, dove si sfidavano per il centro-destra Marcello Bano, mentre per il centro-sinistra Fabio Borina. Il comune è stato guidato fino ad ora dal centro-sinistra, in questo momento è avanti Marcello Bano. Ovviamente se ci saranno altre indicazioni, altre novità, ve le daremo in tempo reale. Per ora direi che è tutto, vi restituisco la linea.